buonasera benvenuti a tutti quanti a tutte quante sono lorenzo fazzini direttore di editrice missionaria italiana che ha promosso questo webinar in collaborazione con diverse altre realtà italiani dell'ambito della cultura del giornalismo il mensile sito vita rappresentato dal direttore stefano arduini che ringraziamo grazie a voi il mensile nigrizia dei missionari con boniani rappresentato da massimo ramundo buonasera padre giampaolo cavalli rappresenta questa sera l'antoniano di cui è direttore antoniano di bologna buonasera e last but not least cinzia vecchi direttore organizzativo del festival francescano buonasera e naturalmente l'ospite molto atteso di questa sera che è in collegamento con noi da washington dove si è appena trasferito padre gairo giro buonasera buonasera a tutti grazie della tua partecipazione confessiamo che abbiamo organizzato questo webinar più velocemente del governo draghi perché circa 15 minuti ci siamo contattati abbiamo detto insieme questo a questa transizione ecologica di cui tutti i giornali tutti i media parlano è per noi di emi un libro che penso molti di voi conoscono o stanno conoscendo in queste ore un libro uscito nel 2015 quindi fu ringraziamo elisa la nostra social media manager che ci dà il supporto e che ci fa vedere questo libro transizione ecologica la finanza al servizio della nuova frontiera dell'economia con prefazione di mauro magatti uscì nel 2015 e confesso il titolo non è mio è di un nostro collaboratore e io stesso dovete andare a studiare di cosa stavamo parlando stavamo parlando di un nuovo modo di concepire la società l'economia la politica dentro un quadro di scelte ecologiche e verdi molto impegnate e anche impegnative un saggio di economia che si legge come un thriller perché se non si cambia civiltà in questa generazione sostiene padre giro le prossime saranno costrette a farlo incalzate dai guai e me dal 2015 al 2020 la situazione dal punto di vista ecologico non è certamente migliorata io spendo due parole per presentarvi il padre gaele intanto così permettiamo anche agli amici e amiche che stanno finendo cena di raggiungerci e di connettersi con noi padre giro è un economista e un gesuita prete cattolico ordinato nella compagnia di gesù e fa parte dirige da pochi giorni possiamo dire perché è arrivato negli stati uniti proprio la scorsa settimana dirige il nuovo centro per la giustizia ambientale della georgetown university una delle delle università della compagnia di gesù negli stati uniti parte fa parte di numerose organizzazioni e istituzioni accademiche francesi o vi ha fatto parte per esempio è stato chef economist dell'agence francese del développement è una sorta di banca pubblica francese dedicata all'aiuto ai paesi in via di sviluppo e con il libro transizione ecologica è stato ha vinto il primo del libro economico dell'anno per il liceo in francia il premio bl letteratura industria in italia con il mio autore anche di un altro testo a più mani la commento alla laudato sì in un piccolo libretto che si intitola curare madre terra proprio eccolo qui per capire l'enciclica al papa francesco con l'aiuto di grandi testimoni e autori fama internazionale tra cui vedete appunto che escerò che ha fatto un approfondimento apposta su quello che dice l'ha laudato sì rispetto alla transizione ecologica vi segnalo in ultimo proprio telegraficamente un altro libro di emi molto forte su questi temi che si intersa con quello che parleremo l'economia l'ecologia di ogni giorno il libro di rob hopkins che il fondatore del movimento delle transition town le città in transizione che appunto sono circa un migliaio di centri di comuni di amministrazioni pubbliche e di gruppi privati che portano avanti la transizione ecologica a livello locale ed è una lunga intervista in cui rob hopkins un giovane agronomo irlandese spiega il perché e per come ha deciso di lanciare questo movimento sono tre testi che trovate sul nostro sito internet www.emi.it anche in edizione ebook transizione la stiamo anche ristampando velocemente per cui se troverete per caso poco disponibile o in lista state tranquilli già domani è disponibile naturalmente li trovate sia sul nostro sito sia sugli store online sia nelle vostre librerie di fiducia ecco sicuramente a dare la parola a padre gael introducendo un po e partendo dal titolo dell'incontro che abbiamo voluto dare perché in italia naturalmente molto si è parlato di transizione ecologica rispetto a questo nuovo governo che vi ha istituito un ministero ma magari pochi sanno di cosa stiamo effettivamente parlando per cui cos'è la transizione ecologica come si fa a fare transizione ecologica e anche la domanda da un milione di dollari quanto costa la transizione ecologica ecco padre gael a lei un primo giro di domande poi ciascun ospite e organizzatore di questo webinar porrà a padre gael un quesito al termine lasceremo a voi la possibilità di fare delle domande nella chat ultimo avviso proprio tecnico chi per caso non ha potuto o non riesce a vedere l'integrità della trasmissione stia tranquillo perché alla fine del del webinar vi verrà mandato una mail con la registrazione integrale di tutto il webinar che potrete rivedervi tranquillamente con calma quando preferite a lei padre gael grazie ancora grazie per l'initazione e mi dispiace per la lingua non ho imparato mai italiano lo parlo molto male e per rispondere alla tua domanda lorenzo secondo me la transizione ecologica si basa essenzialmente su quattro grandi progetti primo sostituendo le fonti di energia rinnovabile agli idrocarburi fossili per ridurre le nostre emissioni di co2 secondo rinnovare termicamente tutti i nostri edifici per renderli energicamente neutri o positivi se è possibile terzo garantire la mobilità verde in italia attraverso essenzialmente il trasporto ferroviario sia dei passaggeri o sia dei prodotti e quattro è inventare l'agroecologia e soprattutto l'industria low tech l'industria verde di domani lo più difficile è l'industria verde questo presuppone secondo me una economia circolare dove l'industria deve vendere servizi invece di oggetti per esempio i jeans vengono ora venduti e poi restituiti al venditore quando sono consumati allo stesso modo i pneumatici vengono venduti e restituiti al produttore per essere riciclati secondo un'industria verde è un'industria che deve andare oltre l'immaginario della miniaturizzazione e dell'elettronica di questo per 40 anni abbiamo elettronizzato le nostre vite ma queste piccole meraviglie difficilmente possono essere riciclate al contrario abbiamo bisogno di oggetti fabbricati molto semplici facile da riparare e riciclare è un mondo diverso infine tutto questo deve essere riciclato l'energia l'acqua e minerali i rifiuti questo costituisce una vera rivoluzione rivoluzione nella civiltà una quarta rivoluzione industriale il nocciolo della questione a mio parere è il finanziamento quanto costa per questo costa diverse decine di miliardi di euro ogni anno chi pagherà il settore privato non può assorbire il conto perché tutto tutto questo è troppo costoso il primo passo sarebbe quello di introdurre una carbon tax per sulle importazioni italiane simile a quella che era raccomandata della commissione stern siglitz alla quale ho contribuito almeno 100 euro tonnellata per tonnellata nel 2030 o molto rapidamente 300 euro per tonnellata ma anche questo non sarà sufficiente a rendere gli investimenti verdi abbastanza attreanti per il settore privato per finanziarli allora abbiamo bisogno dell'estate del settore pubblico però dato il livello del debito pubblico in europa e in particolare in italia dove il debito pubblico è approssimativamente 160% del pil è difficile immaginare che lo stato italiano finanzi tutto per fare questo credo che il debito pubblico italiano detenuto nel bilancio della banca centrale europea dovrebbe essere cancellato sarebbe una boccata ad aria fresca per l'italia per investire nella transizione ecologica inoltre abbiamo bisogno di creare delle tasse comunitarie carbon tax una tassa sulle transizioni finanziarie eccetera eccetera a livello europeo per finanziare un green new deal capace di aiutare ogni paese a finanziare la transizione e infine c'è anche la banca europea per investimenti che può finanziare molti lavori questa è la mia la mia risposta grazie per la sintesi poi saranno anche tematiche che potremo approfondire sia nel dialogo con i nostri ospiti sia anche attraverso le vostre domande cedo la parola a stefano arduini direttore del mensile vita per un primo approfondimento con il professore giro tanto grazie grazie professore io come come lei sa probabilmente ha fatto qualche accenno quindi le giucche anche da come parla l'italiano si capisce che qualche nostro giornale lo legge in italia in questi giorni abbiamo vissuto un grande dibattito eh sul tema della transizione economica eh transizione ecologica un dibattito devo dire eh molto legato a questa quella che per adesso non ha trovata eh di cambio di titolazione di un ministero no? il ministero per l'ambiente è diventato sostanzialmente il ministero della transazione ecologica è rimasto il MISE il ministero per lo sviluppo economico eh a sé stante allora io gli chiedo la prima cosa visto che lei è anche francese e la Francia ci ha anticipato con questa idea di dedicare un ministero con quel a transizione economica con quel titolo un'esperienza che è quanto ho potuto leggere io in questi medi è finita un po' su un binario morto ha dato meno risultati di quelli attesi uno quali sono le condizioni per cui eh un ministero può davvero funzionare e può davvero come dire in stradarci eh lungo la via che lei che lei ha disegnato la seconda cosa invece riferita al al suo intervento precedente eh mi colpisce che lei che lei dica eh che l'industria lei tra l'altro ha anche un'esperienza nelle sue civici ha anche un'esperienza nel mondo del credito molto importante no? Nel mondo delle banche eh le banche ma tutte le grandi aziende in Italia non solo le multinazionali hanno gli obiettivi del del millennio 20-30 l'agenda l'agenda dell'ONU un po' come faro anche sugli investimenti quindi mi colpiva il fatto che lei dica in qualche modo dicesse eh attenzione non 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 è quella la strada eh volevo magari un approfondimento anche su questo se possibile grazie ok eh sopra la la prima domanda la prima domanda l'esperienza francese di un ministero un ministero della transizione ecologica non secondo me non è stata solo negativa e per esempio nel 2015 questo ministero ha approvato un'importante legge di transizione che se sarebbe attuata correttamente darà i suoi frutti secondo me ma lo che passa è che l'attuale governo francese di Emmanuel Macron non sta attuando i suoi stessi impegni inoltre è stato appena condannato il governo francese è stato appena condannato dalla giustizia francese francese così come il governo dei Paesi Bassi per non implementare l'accordo di Parigi di 2015 allora in Italia secondo me un grande piano per la ricostruzione ecologica del paese è l'unica possibilità di sopravvivenza politica di Mario Draghi altrimenti se Draghi fa austerità come la Troica finirà per chiedergli di fare Draghi subirà lo stesso destino secondo me di Mario Monti e per fortuna perché in una situazione di deflazione l'austerità è un rimedio peggiore del mare no e non ho capito esattamente la seconda la seconda domanda mi sembrava di scorge una certa sua sfiducia rispetto diciamo al mondo delle grandi aziende invece no in Italia si dice spesso che quella lì è appunto anche per i problemi di economia di debito pubblico che abbiamo è una sponda che potrebbe essere importante no a livello a livello di marketing spendono molto il fatto di dire ci guardiamo agli obiettivi 20 e 30 tra quelli tra quegli obiettivi di sostenibilità anche ambientale si si la vede un po invece dubbioso no no e secondo me è chiaro che il mondo della sostenibilità verde e le aziende che si che si convertono all'ecologia sono beni preziosi per l'Italia e non sono non solo per il greenwashing mi sembra che diciamo la transizione ecologica è talvolta caricaturata e dai suoi detrattori come un diciamo un ritorno al al tempo della pietra no questo è per esempio quello che pensa il presidente francese Macron per esempio di fronte a noi abbiamo gli apostoli della crescita verde che pensano che possiamo magicamente continuare l'attuale l'attuale modello economico estrativista e distruttivo riducendo la nostra impronta materiale no ma io penso che entrambe queste caricature siano false come l'altra continuare a fare a fare a continuare a fare come al solito ci porta un vicolo cieco e in meno di 20 anni intere zone d'Italia non saranno più abitabili e avremo fame in Italia come abbiamo fame oggi a Beirut in Libano per esempio quindi dobbiamo cambiare il nostro modello economico con l'aiuto delle aziende abbiamo bisogno delle aziende e lei vi ha una consapevolezza da parte delle aziende di questo ruolo sociale? scusa? secondo te le aziende sono consapevoli di questo ruolo sociale? sì ho parlato con alcuni managers dell'industria del nord d'Italia l'anno scorso in 2019 era chiaro che una parte di questi uomini erano perfettamente pronti per implementare la transizione ecologica mi sembra chiaro la transizione ecologica non significa rinunciare all'industria come l'ho detto con Lorenzo abbiamo bisogno di una quarta rivoluzione industriale a favore di un'industria a bassa tecnologia che sia economica in energia minerali acqua e biomassa e per questo abbiamo bisogno del progresso tecnologico ma anche di una riforma politica a favore di una maggiore uguaglianza in Italia e questa è la parte dell'estato del potere pubblico secondo me l'Italia per lo meno il nord d'Italia ha un enorme patrimonio ha una grande tradizione industriale di cui non ha nessuno in Europa da vergognarsi ha scuole scientifiche ed ingegnera di altissimo livello ha una società civile estremamente vivace e tutto questo sono beni che ci permetteranno di realizzare la quarta rivoluzione industriale di cui l'Europa ha bisogno secondo me Lorenzo rubo ancora solo un secondo Prof se lei fosse al posto di Cingolani che è il ministro della transizione economica la prima cosa che farebbe? è la rinnovazione termica degli edifici questo è lo più facile e lo più pronto da fare e dopo dopo la mobilità verde e dopo ancora dopo più tardi l'industria verde e questo è lo più difficile ma questo non lo facciamo in Francia non facciamo niente quindi non basta avere il ministero dice lei sostanzialmente scusa? non basta avere un ministero no 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 abbiamo bisogno di un ministero e abbiamo bisogno di un governo che lo fa in verità bene grazie a questo primo giro di domande cedo la parola a Fra Giampaolo Cavalli che è direttore dell'Antoniano che ci porta anche la sensibilità sociale di un'istituzione dei pari francescani così anche vicina al mondo della solidarietà e dell'immarginazione sì il mio punto di osservazione è molto più basso di quello dell'amico Stefano nel senso che io vedo ogni giorno qui alle porte del convento ma non solo qui in tante parti d'Italia e anche del mondo delle file di persone che hanno bisogno di mangiare e mi domando quanto il tema della transizione ecologica possa sembrare lontano dalla vita di queste persone e allora questo grande tema e questa grande sfida che sentiamo essenziale per immaginare un futuro che impatto ha o che impatto può avere per migliorare anche la vita dei più fragili in che modo può cominciare ad aiutare anche quelli che sono in fila per chiedere un pezzo di pane il povero che oggi non vede via d'uscita e che non sa dove sbattere la testa e che vede una condizione sempre più difficile e unito a questo un altro grande tema riguarda il mondo del lavoro perché ci sia un lavoro dignitoso, giusto, ecologicamente sostenibile per tutti, donne e uomini perché alle volte questo sembra è un privilegio il lavoro ma forse anche quello ecologicamente compatibile sembra essere ancora più un privilegio piuttosto che un diritto sì, tutti questi progetti, la rinnovazione termica degli edifici, la mobilità verde l'industria low tech, l'industria verde sono progetti straordinariamente creatori di posti di lavoro lavori verdi e dignitosi e perché sono utili? perché le energie rinnovabili sono tutte meno produttive del petrolio quindi se si sostituisce il petrolio con qualcos'altra energia c'è bisogno di più manodopera il vero nemico dei posti di lavoro è il petrolio in un mondo ecologicamente sostenibile non ci può essere più alcuna minaccia di impegno da parte delle macchine perché i robot lavorano solo con minerali e energia e noi dobbiamo ridurre il loro consumo allora per esempio in Francia stiamo oggi pensando all'idea che lo Stato potrebbe fornire una garanzia di lavori verdi per tutti abbiamo bisogno di così tanta manodopera per fare la transizione ecologica che la domanda secondo me non è ci saranno ancora disoccupati ma dove troveremo la manodopera e per rispondere alla prima parte della sua domanda trovare un lavoro decente è ancora secondo me la migliore risposta alla povertà alla povertà degli Europi e alla povertà degli italiani grazie ecco questo inserisco un secondo questo tema del lavoro pone anche come dire una sfida ulteriore perché non è lavoro delocalizzabile è lavoro esattamente sono posti di lavoro per gli italiani non delocalizzabile non delocalizzabile sì sì chiaro certo sembra quasi una rinuncia al progresso perché? perché rinunciamo alla tecnologia o la riduciamo? no 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 abbiamo bisogno della tecnologica per fare l'industria verde ma un'altra tecnologia non questa tecnologia questa ma una tecnologia diversa una tecnologia della sobrietà verde no? è una cosa diversa ma questo è il progresso tecnico secondo me un progresso umano se posso prego scusa c'è qualche nazione qualche stato che può fare da modello? ci seguiamo l'esempio di no abbiamo bisogno di farlo gli europei perché gli Stati Uniti non hanno la consienza come lo ha mostrato Trump no? ci sono soltanto due regioni del mondo che possono farlo che possono fare la transizione ecologica secondo me Europa e Giappone ma Giappone è completamente nella deflazione è molto difficile per Giappone allora dobbiamo farlo gli europei non c'è un modello dobbiamo inventarlo grazie vi chiedo agli amici che sono in ascolto se è possibile di tenere le domande per la conclusione altrimenti è difficile poi coglierle alla fine di questo primo giro di dialogo poi daremo spazio alla chat per cui le domande potete inserirle più tardi giro la parola a Massimo Ramundo redattore di Nigrizia e mensile dei cambodiani che così ci porta anche uno sguardo più allargato verso le cosiddette periferie del mondo non ci sentiamo buonasera a tutti nel libro transizione ecologica e lei ha il coraggio di scrivere che è urgente un cambio di paradigma per un nuovo modello di sviluppo Papa Francesco lo afferma con forza nella laudato sì e nella fratelli tutti nelle afriche questo vuol dire uscire finalmente da una logica economica di stampo coloniale ancora molto presente oggi di estropiazione delle materie prime per entrare in un modello comunitario di lavorazione delle materie e di sviluppo dove sia la politica locale a decidere dell'economia e della finanza e non viceversa ma nelle afriche sappiamo come interi stati sono agli ordini delle multinazionali e di come il cammino dell'unione africana sia debole la novità di quest'anno del 2021 è l'entrata in vigore del trattato di libero commercio continentale africano la più grande area di libero scambio al mondo questo è di buon auspicio nell'ottica di un cammino verso la transizione ecologica e quindi un nuovo paradigma economico oppure rientra in una logica di puro mercato con al centro sempre i beni i servizi e le finanze e non le persone come dovrebbe essere e un'altra domanda legata a questa è questo cambiamento può portare agli imprese e agli stati agli stati africani significativi vantaggi grazie per la domanda secondo me l'Africa ha un ruolo chiave nella transizione ecologica per due ragioni sia perché ha enormi risorsi di cui tutti hanno bisogno e sia perché l'Africa è l'unico continente al mondo che sperimenterà un vero e proprio aumento della popolazione nei prossimi decenni ma in effetti questo implica porre fine alla sottomissione della maggior parte dei paesi africani alla logica postcoloniale del saccheggio del saccheggio delle risorse da parte delle multinazionali e della Cina anche la Cina è molto pericolosa e secondo me il trattato di libero scambio non è una buona notizia questo trattato dà alle corporazioni il sopravento e agli stati pochi mezzi per salvaguardare la loro sovranità io ho molta più speranza in trasformazioni come quella che sta vivendo il Sud Africa il suo il suo operatore elettrico Escon è pieno di debiti debiti privati ma si sta escogitando una soluzione finanziaria per permettere a Escom di pagare i suoi debiti e investire massicciamente nelle energie rinnovabili se questo meccanismo funziona potrebbe servire da modello per molti altri paesi africani o no secondo me fondamentalmente la transizione ecologica verso le aziende di energia rinnovabile ci offre tre opzioni diciamo di economia politica e questo per Africa però anche per Italia primo diciamo un regime completamente decentralizzato dove ognuno genera elettricità nel proprio quartile questo questo per esempio è il sogno che le cooperative tedesche stanno perseguendo oggi e questo è strettamente legato alle aspirazioni di diciamo democrazia partecipativa e allo sviluppo dei beni comuni nella società civile civile però questo è solo la prima opzione la seconda opzione è un regime autoritario statale e centralizzato dove lo stato e il capitale privato si alleano alle spalle della società civile e dei più fragili questo è purtroppo compatibile con la transizione ecologica perché le energie rinnovabili paradossalmente sono molto più intensive di capitale degli idrocarburi fossili allora la seconda opzione è un regime autoritario statale e centralizzato un po' come lo che fa Emmanuel Macron il presidente francese oggi in Francia secondo me l'unico regime auspicabile è quello di un stato sovrano che riacquista la sua autonomia per proteggere la gente comune nella società civile perché essendo questo i beni comuni l'acqua la salute eccetera eccetera sono troppo fragili saranno recuperati da logiche private o tribali e lo stato è anche l'unico che può resistere alle istituzioni comunitarie europee in Europa per esempio per far valere gli interessi dell'Italia contro per esempio la burocrazia di Bruxelles e lo stesso in Africa in Africa abbiamo bisogno di un stato ogni paese ha bisogno di un stato sovrano che riacquista la sua autonomia per proteggere la gente comune nella società civile questo è lo più difficile perché ci sono molti paesi africani dove il stato oggi è completamente come si dice in italiano finito per esempio in Mali Mauritania Chad Burkina Faso eccetera eccetera però questo anche è difficile per l'Italia perché l'Italia secondo me ha un vero aggiornamento da operare perché l'Italia non ha la stessa tradizione diciamo giacobina come della Francia la Francia è molto minacchiata dall'opzione autoritaria che è anche l'opzione del Nigeria per esempio o magari del Sud Africa è l'opzione che Macron sta cercando di attuare puntando tutto sul nucleare e organizzando la fine della democrazia francese in Italia mi sembra che il rischio è piuttosto e credo la tentazione del decentramento completo ma questo mi sembra è molto fragile già nel 2011 i napolietani avevano dovuto lottare per proteggere l'acqua di Napoli contro la Commissione Europea e se lo Stato italiano non protegge gli italiani e si dovranno lottare per difendere tutte le loro risorse e secondo me è esattamente lo stesso per Africa se non c'è un Stato per proteggere la popolazione la popolazione dovrà lottare per difendere tutte le loro risorse della privatizzazione allora diciamo secondo me abbiamo bisogno di un modello politico che ancora non esiste che sarebbe il repubblicanesimo ecologico ma questo è difficile anche per Italia anche per Francia e anche per Africa grazie 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 a padre Gaelle e a Massimo e cedo volentieri a parola a Cinzia Vecchi che ci porta anche la sensibilità del Festival Francescano una rassegna culturale che molti di voi seguono e che da qualche anno si è impiantata a Bologna a te Cinzia volentieri a parola grazie grazie buonasera e allora nel suo libro professor Giraud lei parla di beni comuni dice che la transizione ecologica deve tenere conto di beni comuni come l'ambiente l'istruzione la cultura biodiversità e la salute è descritto come un bene primario globale quindi la nostra domanda va un po' contestualizzando quello che stiamo vivendo cioè da mesi siamo attraversando questa pandemia e ci siamo resi conto che la salute di ciascuno dipende dagli altri quindi siamo tutti collegati noi del Festival Francescano abbiamo scelto quest'anno un claim per l'edizione 2021 che è il seguente economia gentile il mondo è di tutti riprendendo un'espressione che Papa Francesco ha utilizzato nell'ultima enciclica e la domanda quindi è questa come è possibile coniugare la transizione ecologica con un mondo dove la salute deve essere un bene primario per tutti abitanti delle metropoli delle periferie nord e sud del mondo grazie grazie per la sua domanda in effetti la salute è un bene comune la salute di una famiglia di Wuhan in Cina riguarda il mondo intero questo è chiaro oggi e quindi impossibile privatizzarlo privatizzare la salute o aspettarsi che solo gli stati se ne occupino e l'organizzazione dall'altra parte l'organizzazione mondiale della sanità della salute che è un'organizzazione pubblica ha mostrato i suoi limiti nella misura in cui non è stata ascoltata dagli stati durante la pandemia ora per sbazzarsi del virus del coronavirus abbiamo bisogno di un coordinamento infallibile tra tutti gli stati abbiamo sradicato già il vaiolo in tutto il mondo negli anni 70 grazie a questo coordinamento e dobbiamo ripetere questa impresa per il coronavirus e anche per tutte le altre pandemie che si moltiplica probabilmente che si moltiplicheranno a causa del riscaldamento globale allora la sua domanda è come facciamo poiché non è né il settore privato da solo né lo Stato da solo che può gestire la salute come un bene comune globale o l'ambiente o la biodiversità o la cultura eccetera eccetera e chi se ne occuperà secondo me c'è un esempio che trovo che io trovo molto stimolante che si chiama dndi in inglese drugs for neglected disease in a sheriff dndi e dndi è una piattaforma creata a Ginevra Svizzera 15 anni fa per lottare contro le malattie trascurate dal settore farmaceutico privato perché i pazienti non sono solventi la dndi porta al tavolo dei negoziati stati sovrani organizzazioni non governamentali ONG e rappresentati di Big Pharma del settore privato e dndi oggi riesce a distribuire per esempio una terapia per l'epatite C in Egitto per 300 dollari invece di 3000 euro in Europa questo è un esempio di una istituzione a livello internazionale che tratta della salute come bene comune con una diciamo ibridazione dell'estato della società civile e del settore privato e mi sembra che dovremmo ispirarci a questo tipo di istituzione ibrida né puramente privata né puramente statale per costruire un'organizzazione mondiale della sanità come bene comune e dovremmo fare esattamente lo stesso per tutto lo bene comune sia la cultura sia l'ambiente la biodiversità eccetera eccetera ecco io ringrazio padre Gael per la concessione e la chiarezza e chiedo intanto ai nostri interlocutori un breve così un breve rimarche una breve considerazione ciascuno per poi aprire lo spazio alle domande dei nostri amici a casa iniziamo da chi ha parlato per primo Stefano Arduini direttore di vita tanto io ringrazio professore Giru perché ci ha restituito come dire ha perimetrato un sistema dove la transizione economica ha a che fare con i posti di lavoro ha a che fare con la povertà ha a che fare con con l'Africa ha a che fare con i beni comuni quindi un quadro di insieme composito e quindi questo te la fa diventare una prospettiva non una chimera di questo ringrazio molto aggiungo una domanda per chiudere il cerchio chi sono i nemici della transizione ecologica da chi ci dobbiamo guardare secondo me gli nemici della transizione ecologica sono le banche perché le banche hanno nel bilancio attivi si dice attivi no assets attivi che sono attivi degli fossili che perderanno il suo valore completamente durante la transizione ecologica e questo le banche lo hanno perfettamente capito e per loro la transizione ecologica è la morte allora abbiamo bisogno di trovare una soluzione per neutralizzare questi attivi bruni attivi di fossili dentro delle bilance delle banche per salvare le banche salvare le banche se no non sarà possibile convertirle e questo è lo più difficile è il ruolo dello Stato è uno quando dice c'è bisogno dello Stato di un sistema sovranazionale per salvare le banche per salvare le banche per la questione delle passività legate alla produzione di carbon fossile abbiamo bisogno di un Stato che pensa alla strategia della transizione ecologica è chiaro però al stesso tempo abbiamo bisogno per esempio della Banca Centrale Europea per salvare le banche per esempio sarebbe una soluzione la Banca Centrale Europea può comprare gli attivi bruni come la banca lo ha fatto con il debito pubblico e poi absorbare il crack finanziario con la transizione ecologica questo la Banca Centrale Europea può farlo ma le banche private non possono farlo grazie padre Giampaolo Cavalli a te la parola sì grazie Gael io mi porto via un'immagine che per ora è solo un'immagine ma spero che diventi anche di riuscire a darci un contenuto che è l'espressione che ha detto della tecnologia della sobrietà verde penso che possa essere veramente qualcosa su cui pensare qualcosa su cui lavorare anche se adesso mi sembra che sia più un'immagine che qualcosa di concreto perché non lo so così un'impressione ma forse tu mi puoi smentire no un esempio un esempio molto semplice in Francia oggi si può fare un fotovoltaico organico perfettamente organico questo è un esempio di una tecnologia della sobrietà della sobrietà perché non abbiamo bisogno di minerali come con il fotovoltaico classico ma abbiamo bisogno di una tecnologia e di ingegneri di alto livello per farlo è una cosa diversa non è una regressione l'amico Stefano prima ha parlato di nemici io vorrei chiederti quali sono gli amici della transizione ecologica se ce ne sono tutti gli altri tutti gli altri specialmente i poveri perché i poveri hanno capito che la salvazione e la transizione ecologica è chiaro il messaggio della laudatossino non lo sai come si dice in italiano ma il grido della terra è il grido dei poveri è lo stesso esattamente lo stesso allora gli animici gli amici sono la creazione e i poveri grazie a Massimo Ramundo un breve rimarchio e semmai un rilancio con Gael sì prima laudatossi poi il sinodo dell'Amazzonia poi i fratelli tutti hanno messo al centro le questioni ambientali e questo è molto importante anche per la nostra Chiesa adesso sembra finalmente che anche la politica sta mettendo al centro le questioni ambientali quindi veramente ci auguriamo che l'emergenza climatico le questioni ambientali siano veramente una priorità per il bene delle generazioni future perché penso che più che ci deve veramente preoccupare questa questione delle generazioni future quindi oggi ci dobbiamo preoccupare dell'ambiente dove è la domanda sono d'accordo più che altro è una considerazione finale sono perfettamente d'accordo lo che posso dire è che laudatossi ha dimostrato che la transizione ecologica non è diciamo un appendice un appendice opzionale dell'esperienza cristiana e la transizione ecologica è al centro della nostra relazione con la creazione e quindi con Dio con Cristo oggi secondo me non si può essere cristiani e non essere ecologisti oggi ecco a me arrivava un po' il compito anche di chiederle personalmente perché tanti amici magari in collegamento possono avere questa domanda almeno io ce l'ho come curiosità lei è un gesuita in cui sembra che ci sia più dell'economista che del gesuita qualcuno potrebbe dire più dello scienziato o dell'economista che del cosiddetto pastore ed anime perché lo dico provocatoriamente perché come gesuita si è impegnato così tanto si sta impegnando così tanto per la transizione ecologica per due ragioni la prima è lo che io ho detto già che come l'ha mostrato laudato non si può essere cristiani oggi e non essere ecologisti è una questione della relazione con la creazione e così come diciamo non si può essere cristiani senza amare il prossimo questo è il messaggio dei fratelli tutti no? ma il prossimo è anche il come si dice il luopo no? di Francesco di Assisi no? il prossimo è anche la selva e anche il volcano eccetera eccetera tutta la creazione fa parte dei prossimi per me no? il secondo è vero che dopo più di 10 anni di attività come diciamo ricercatore e attivista della transizione ecologica sarebbe possibile di fare l'esperienza di una come si dice discorgiamento la persa dell'esperanza esattamente perché io sono gesuita e sacerdote questo non è possibile abbiamo bisogno della speranza per lottare contro le forze negative degli animici della transizione ecologica questo è molto importante e fa parte della mia esperienza come gesuita e come sacerdote chiaro ogni giorno grazie io raccolgo qualche domanda tra le moltissime che sono passate vi chiedo scusa primariamente perché per me magari altri amici mi stanno aiutando ma sono davvero tantissime c'era una domanda di Tina se non sbaglio che diceva ma se solo gli stati europei attuano la transizione ecologica senza il coinvolgimento di Cina e Stati Uniti non ci sarà un impatto troppo basso del cambiamento anche climatico lo che ho detto la prima regione che può farlo è Europa secondo me Europa e Giappone ma per Giappone è molto difficile è troppo difficile oggi ma questo non vuol dire che siamo gli unici dopo dell'Europa Cina e gli Stati Uniti vanno a farlo anche ma mi sembra dopo di noi dopo di noi dovremmo essere gli primi ecco più volte è tornato scusa 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 Lorenzo dovremmo essere i primi perché abbiamo i soldi perché tutto questo costa la tecnologia i migliori ingegneri del mondo e al stesso tempo la cultura della popolazione perché abbiamo bisogno di una popolazione che può capire il cambio paradigmatico della tecnologia della sobrietà questo è molto difficile per esempio per gli Stati Uniti non per gli europei non credo per noi è più facile mi sembra ecco tornava più volte la domanda se transizione ecologica è un sinonimo o in che rapporto sta con la teoria della decrescita se può spiegare qualcosa su questo non è lo stesso perché io non ho detto che abbiamo bisogno della decrescita ho detto che io non credo che la crescita verde sia possibile ma questo non vuol dire che sono in favore della decrescita perché che facciamo con gli posti di lavoro con la decrescita e secondo me sia la crescita verde o la decrescita tutto questo fa parte della stessa errore che è il PIL il PIL non è il PIL si dice la PIL il PIL non è un indicatore interessante della vita economica abbiamo bisogno di alternative indicatori sopra il lavoro e la salute delle persone l'educazione eccetera eccetera tutto questo l'iguaglianza tutto questo non fa parte del PIL allora non è importante sia la crescita o la decrescita lo più importante è la salute delle persone l'adequazione eccetera eccetera più volte è tornata la questione molto sentita in Italia del consumo del suolo e del disesto idriologico ecco come si pongono questi problemi in Italia c'è un consumo del suolo pari a 8 metri quadrati al secondo proprio così si intitola un nostro piccolo libretto di EMI 8 metri quadrati al secondo e come si pone questo problema rispetto alla transizione ecologica non ho capito il consumo di terreno cioè il continuo costruire e quindi e anche l'incuria rispetto al terreno che crea dissesto idriologico sì sì l'artificia l'artificia del suolo no e questo è una tragedia abbiamo bisogno di 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 cortare tutto questo per salvare il suolo italiano perché al stesso tempo c'è una riduzione della biodiversità e del suolo italiano della come si dice sì della biodiversità che è una tragedia specialmente in Italia e nel sud di Spagna e se non facciamo niente è è possibile che in 2040 se persano 80% dell'accesso all'acqua potabile in Italia 80% è incredibile no questo per per causa della distruzione del suolo no allora abbiamo bisogno urgentemente di un aggiornamento radicale del rapporto al suolo no ecco c'è una domanda magari ci permette anche di approfondire il suo nuovo incarico a Washington se ci può dire anche due parole perché c'è un amico che chiede se la transizione ecologica può entrare nelle università e quindi magari anche spiegarci di cosa si occuperà in questo nuovo centro per la giustizia ambientale alla Georgetown University a Georgetown University in Washington DC sono direttore del programma di giustizia ambientale ci sono tre campi di lavoro il primo è una ricerca interdisciplinaria tra economia la scienza politica e le scienze climatiche la fisica la biologia eccetera eccetera perché questo lavoro interdisciplinario non c'è oggi non c'è oggi gli economisti non lavorano con gli altri sono autisti autista si dice i miei colleghi economisti primo secondo un osservatorio internazionale degli campi ecologici ci sono oggi campi universitario ecologici dove si può vivere lo che diciamo durante il corso il corso per esempio c'è il Sustainability Institute in Stellenbosch University in Sudafrica dove tutta l'università il campus sia dentro di un villaggio ecologico e come conseguenza tutta l'acqua tutta l'energia tutto è riciclabile e tutta la gente lavora nel giardino nel giardino prima di fare il corso eccetera eccetera è chiaro che l'atmosfera pedagogica è completamente differente di una relazione pedagogica classica nell'università allora abbiamo bisogno secondo me di più di molti campi ecologici come quello di Sudafrica il terzo si tratta di progetti concreti di giustizia ambientale per esempio il governo di non lo so come si dice in italiano Mauritius in inglese Mauritius una piccolina isola nel Oceanidiano cerca di Madagascar Mauritius no? si dice il governo mi ha detto abbiamo tutto tutte le conseguenze del cambio climatico la biodiversità sta completamente distruita eccetera eccetera e che facciamo per la tragettoria macroeconomica del Mauritius per i prossimi 25 anni non sappiamo e non c'è nessuna aiuta del Fondo Monetario Internazionale del Banco Mondiale eccetera eccetera allora il mio programma va a intentare di aiutare il governo di Mauritius eccetera eccetera ecco una domanda viene sul ruolo dell'agricoltura nella transizione ecologica quale ruolo può avere lei accendava all'agroecologia ecco se può prendere qualche parola in più sì abbiamo bisogno di una agroecologia per salvare il suolo e per per salvare l'agricoltura perché l'agricoltura dipende molto oggi del si chiama fosfato no fosfato in italiano e il fosfato sarà molto difficile e il fosfato è un minerale critico negli prossimi anni allora per causa dell'autonomia e della sovranità dell'agricoltura europea abbiamo bisogno di un'agroecologia senza fosfato senza petrolio questo è perfettamente possibile e dobbiamo farlo ma per farlo per esempio abbiamo bisogno di una lotta contro la commissione europea perché la commissione europea non è non è d'accordo con questo questo questa perspectiva ecco una domanda che penso ti stia anche molto a cuore quella di oliviero se non è oggi un tabù parlare dell'eccessivo sfruttamento di carni animali e del conseguente inquinamento non ho capito del del consumo di carne animale sì io sono vegetariano 4 anni fa e dobbiamo quasi tutti gli adulti con buona salute essere tutti vegetariani non abbiamo bisogno di mangiare tanto carne e questo l'impatto ecologico della carne è una tragedia quindi dovremmo ridurre molto il consumo della carne è chiaro e guardando l'attualità anche politica che ci riguarda qualcuno chiedeva se il next generation act dell'unione europea va nella direzione della transizione ecologica oppure oppure no è molto ambivalente perché la commissione europea crede nella crescita verde non ha capito che la crescita verde è impossibile e quindi è molto ambivalente abbiamo bisogno di un green noodle per fare lo che abbiamo detto la rinnovazione termica dei edifici la mobilità verde con il treno e l'agroecologia e una industria verde tutto questo non fa completamente parte della perspettiva della commissione europea c'è una domanda di Stefania su quale deve essere quale architettura deve essere concepita secondo i principi della transizione ecologica un'architettura e degli edifici con un'energia positiva questo è possibile e anche un'architettura e un urbanismo di piccoline città con un transporte pubblico con un po' di poliagricoltura cerca della città e con il treno questo è un cambio radicale della della perspettiva dell'urbanismo e dell'architettura ecco più domande tornano sul ruolo dell'educazione ed è un tema penso la scuola che anche come professore come gesuita penso ti stia molto a cuore cosa può fare la scuola e l'educazione su questo perché penso anche tanti amici e amiche che sono in collegamento sono insegnanti a vario livello ecco l'ecologia dovrebbe diventare materia obbligatoria di studio sì sì ho scritto un libro per il ministerio dell'educazione dell'educazione pubblica in Francia per spiegarlo e per dire che abbiamo bisogno di un cambio di tutti come si dice i syllabus i corsi la come si dice la l'educazione nell'università e nel liceo per dare le informazioni sopra la transizione ecologica alla prossima generazione ma la mia esperienza è che la prossima generazione è più educata sopra la transizione ecologica che noi e abbiamo bisogno di apprendere dei giovani come lo facciamo non so su questo puoi spendere qualche parola in più proprio sul ruolo dei giovani anche come insegnante come docente universitario e la mia esperienza è che i giovani specialmente in Francia non lo so in Italia ma in Francia i giovani sono por una parte nella desesperanza totale perché hanno visto che non facciamo niente e che il futuro è completamente come la notte no? e por otra parte i giovani hanno una speranza una energia una forza per lottare per salvarsi che è incredibile e che per me è una fuente di esperanza speranza ecco tornano tornate più volte nelle domande cosa si può fare come consumatori o dal basso partendo da da semplici cittadini per costruire la transizione ecologica senza aspettare che ci siano le grandi decisioni politiche ci sono delle scelte concrete che ciascuno può fare possiamo essere tutti vegetariani gli adulti possiamo come si dice rinunciare rinunciare al come si dice l'avione si dice l'avione no? l'aereo 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 rinunciare all'aereo quando c'è un'alternativa con il treno sono due possibilità e rinunciare all'automobile quando c'è un'alternativa l'automobile termica quando c'è un'alternativa con il treno è molto semplice no? possiamo farlo e a livello come consumatori anche come scelta di di acquistare un prodotto piuttosto che un altro ah e consumare un prodotto locale e bio quando è possibile ma locale anche perché locale significa che non ha fatto una distanza incredibile con il petrolio la unica ragione perché ragione perché è tan facile oggi di comprare un prodotto che si è fatto in Cina è che il petrolio non costa niente non costa niente ma c'è il petrolio e c'è la produzione di CO2 allora è meglio di consumare un prodotto italiano europeo francese e che è un prodotto cino cinese ecco e c'è una domanda anche sul tema del rapporto tra migrazioni e cambiamento climatico ecco lei è stato tu sei stato per molti anni direttore di questa agenzia francese per lo sviluppo e hai visionato visitato molte volte diversi paesi del mondo mi ricordo che una volta mi dicevi che in un mese avevi preso per mestiere ahimè 18 volte l'aereo quindi conosci il mondo e le questioni geopolitiche di migrazioni ecco se ci puoi portare qualche esempio concreto di come i cambiamenti climatici stanno influendo sulla vita delle popolazioni e di qui il problema delle migrazioni si posso convidere il mio screen lo schermo si dice si ok no non funziona no dovresti mandare a noi perché ah o se no perché vuoi mettere una diapositiva si dai prova con share the screen condividi 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 lo schermo no si si però apparentemente non funziona allora facciamo la volta prossima ok la prossima volta ok si lo che passa è che probabilmente se non facciamo niente se non facciamo la transizione ecologica la combinazione del calore dell'umidità sarà insupportabile per gli uomini per tutto al fine del secolo per tutto il bassino di amazzonia tutto tutta l'america centrale tutto il bassino del del congo una parte del dell'africa del come si del sahelo si dice nel sahelo no sahel 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 sud est asiatico oh è uscito probabilmente c'è un problema di connessione probabilmente c'è un problema di connessione di padre gael vediamo se intanto che eccolo che ritorna ecco questo vuol dire quando diciamo che potrebbe essere due miliardi di rifugiati climatici nella seconda parte di questo secolo questo non è un'esagerazione sarebbe la conseguenza del cambio climatico se non facciamo niente allora i problemi che abbiamo oggi in Europa specialmente in Italia sono soltanto l'introduzione dell'inizio dei problemi ecco più volte tornava tra i nostri amici in collegamento la domanda di chiarire un po' meglio la tecnologia verde la tecnologia light ecco puoi farci qualche esempio magari partendo anche dagli studi che ha realizzato su questo tema sì ho dato l'esempio per esempio del fotovoltaico organico abbiamo bisogno di fare lo stesso per tutte le fonti di energia fonti di energia con meno minerali e l'agroecologia è un esempio anche di una tecnologia della sobrietà una tecnologia verde però hai che inventarlo un esempio molto facile è una dentro di una macchina non abbiamo bisogno del motore elettrico si dice per chiudere la finestra possiamo farlo con il corpo è molto facile molto semplice perché abbiamo bisogno di tutta l'organizzazione elettronica dentro della macchina una macchina semplice senza elettronizzazione sarebbe molto meglio ed è un esempio molto facile bene io vedendo che il tempo sta scorrendo molto velocemente inviterei i nostri discussant a chiudere un po' con una loro considerazione conclusiva e poi avremo la possibilità di condividere alcune esperienze di ciascun organizzatore di proporle ai nostri amici al pubblico e poi di chiudere con un intervento conclusivo del professor Giro iniziamo da Stefano un tuo rimarco conclusivo a me approfitto per fare un'ultima domanda perché mi fa pensare un intervento del professor un tema che ci abbiamo seguito che è molto interessante quando si parlava dei consumi attualmente per esempio tutta la filiera biologica è una filiera che ha costi elevati costi di più rispetto allo standard quindi è come dire che il contributo da parte dei consumatori a questa svolta può essere data dalla fascia medio alta della popolazione è una contraddizione in sé in qualche senso manca un'alleanza tra i consumatori e i produttori verdi come si supera questo si è una domanda molto importante lo che passa è che i prodotti biologici sono più cari oggi però se abbiamo tutti un lavoro verde è più facile pagare con un lavoro che senza lavoro allora la questione non è soltanto come facciamo per pagare per i prodotti ma come facciamo una 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 transizione ecologica che tutti hanno un lavoro tutti hanno soldi per pagare lo che abbiamo bisogno è un cambio della perspettiva non si tratta solo di pagare ma anche di ganare un soldo si fra Gianpaolo a te una parola conclusiva la parte tua si mi pare che quanto ci ha descritto Gael sia una cosa a cui aspirare è un processo da mettere in moto però dobbiamo trovare il modo di essere massa critica capace di di influenzare ciò che accade le scelte e di mettere in moto qualcosa che possa cambiare dobbiamo metterci insieme perché da soli si resta dove siamo chiaro grazie massimo il mondo volevo innanzitutto ringraziare veramente questa serata questo incontro perché è stato molto interessante quindi grazie grazie di cuore ecco lavorando nelle riviste veramente mi auguro che sappiamo anche saper comunicare questa transazione ecologica quindi anche l'importanza di una comunicazione a rispetto grazie una parola Cinzia grazie grazie io nel ringraziare per questa opportunità ho notato scorrendo la chat che ci sono vari commenti di giovani in particolare di ragazzi del movimento Fridays for Future che seguono questa sera e hanno commentato e mi ha colpito uno di loro che chiede che cosa possono fare i giovani in questa transizione ecologica e velocemente chiedo proprio solo questo ultimo rimando i giovani possono fare tutto vuoi dire i giovani possono fare come Greta Thunberg protestare dentro dell'università dentro della città dentro del liceo per dire a noi a nostra generazione non siamo d'accordo per distruire tutta la tutta la creazione e partecipare a iniziative della aggiornamento della transizione ecologica ci sono molti iniziativi in Italia dentro della società civile secondo me Mario Draghi è soltanto un politico che ha capito che la società civile italiana è più avanzata nella direzione della transizione ecologica la classe politica è l'ultima parte della popolazione che non aveva capito e allora i giovani possono fare tutto incluso come si dice sostenere un programma politico della transizione ecologica per le prossime elezioni grazie da parte mia c'è così il rimando naturalmente al libro di Gaia Giro transizione ecologica è un libro che davvero per noi è diventato una sorta di manifesto so che tantissime volte per esempio padre Alex Zanotelli lo cita e vi cito proprio una frase conclusiva del libro che recita così se crediamo che l'homo sapiens vale più dell'homo economicus dei mercati finanziari vale la pena impegnarci nel cammino della transizione ecologica ecco questo libro ve lo consiglio vivamente perché a me personalmente è aperto un mondo aperto un mondo nella comprensione dei meccanismi della finanza e delle possibilità concrete non solo politiche ma sociali e personali che si possono attuare lo trovate come dicevo sia in formato ebook che cartaceo sul nostro sito emi.it insieme a un altro piccolo testo curare madre terra che è una raccolta di autorevoli commenti e la enciclica laudato si che qui trovate 3 euro e 90 e quindi con questi due libri potete fare i 19 euro che sono la quota minima per averli a casa gratuitamente via corriere per capire per capire l'enciclica verde di Papa Francesco con l'aiuto di grandi testimoni internazionali Leonardo Boffa Alex Zanotelli Gaes Giro Chiara Giaccardi Mauro Magatti e Giacomo Costa e poi vi segnalo questo ultimo testo davvero molto illuminante anche questo perché fa capire come la scelta personale politica e convintamente individuale ma capace di mettere in moto un mondo sicuramente padre Gael lo conosce Rob Hopkins il movimento delle Transition Town voglio dire ai miei figli che ho fatto tutto quello che ho potuto l'intuizione di un quarantenne agronomo inglese è diventata realtà costruire una società più verde meno dipendente dal petrolio attraverso veramente la partecipazione di tutti davvero nella chat c'era più volte la domanda come possiamo fare insieme per cercare di vivere tutti questi discorsi che padre Gael ci ha consigliato in questo libro trovate molto da vicino la descrizione di un movimento di questo genere ecco adesso vi chiediamo proprio un minuto di attenzione per un piccolo momento di presentazione delle attività dei vari organizzatori ricordo il mensile vita il mensile migrizia il festival francescano e Antoniano cedo a ciascuno la parola con l'occasione di presentare qualcosa di sé massimo si nigrizia è la rivista dei missionari congoniani la rivista che parla del mondo dell'africa e del mondo afro del mondo negro quindi è una rivista dei missionari congoniani ma potete anche seguire le notizie del mondo dell'africa anche sulle nostre pagine web nigrizia.it e facebook e twitter sempre di nigrizia grazie grazie massimo e ora una parola a Stefano Arduini direttore di vita anch'io vi ringrazio intanto grazie il prof Giù vita è il mensile quello che vedete è l'ultima copertina del mensile che abbiamo dedicato alla medicina di prossimità nello stile di vita oltre a denunciare il problema abbiamo provato anche a raccontare come questa medicina di prossimità si può davvero costruire nella rete della cura nelle reti delle cure italiane vita è un un mensile che è un sito www.vita.it che esiste da 26 anni il nostro editore sono un gruppo di organizzazioni non profit quindi vita per statuto è posseduto da organizzazioni non profit facciamo racconto sociale racconto in particolare dell'innovazione sociale e dell'economia civile ci potete seguire appunto tutti i giorni col quotidiano online e sui social da linkedin instagram facebook twitter grazie grazie festival francescano e antoniano a voi grazie festival francescano è una realtà che si occupa di approfondimento culturale di presentare i valori francescani ma è da 13 anni in questa formula festival insieme ad antoniano e ad altre realtà e anche a emi organizzo una serie di iniziative online segnaliamo la prossima che organizzeremo insieme il 23 marzo un dialogo fra il cardinale Tagle e il giornalista il Corriere della Sera Aldo Cazzullo vi aspettiamo grazie e da parte di emi invece la presentazione brevissimamente di un nuovo ciclo di webinar che abbiamo dedicato ai martiri del nostro tempo sei figure per sei giovedì durante la quaresima partendo da giovedì 18 febbraio avremo dei testimoni da ogni parte del mondo che ci racconteranno alcune figure di uomini e donne che hanno dato la vita per il prossimo e per il Vangelo questo giovedì la partecipazione è libera gli altri saranno con una piccola donazione a offerta libera avremo con noi Adrienne Cantiard un domenicano che abita al Cairo e Anna Medeossi una missionerana orano in Algeria che ci racconteranno la figura di Pierre Claverie questo lo vedete in foto un vescovo cattolico ucciso insieme all'amico Mohamed Boussiqui musulmano uccisi insieme nello stesso attentato una storia davvero commovente ma anche molto feconda di dialogo di amicizia e di futuro quindi vi aspettiamo giovedì 18 febbraio vedete nella chat la possibilità di iscriversi gratuitamente già questa sera io chiedo a padre Gael ancora l'ultimo minuto di attenzione e di chiuderci con un messaggio tuo a ciascun partecipante anche a noi come organizzatori su cosa ci aspetta da fare oggi per la transizione ecologica grazie Lorenzo l'ultimo messaggio mio sarebbe la creazione di un ministero della transizione ecologica in Italia è una buona notizia è una buona notizia soltanto se se fa veramente la transizione in Italia non solo come in Francia retoricamente però davvero e per questo abbiamo bisogno dell'iniziativa di tutti di tutta la società civile per aiutare e dare l'energia al Stato e a Mario Draghi per farlo se no sarà come in Francia una comedia della transizione ecologica che è una cosa diversa bene io ringrazio ancora tutti e ciascuno ringrazio tantissimo a voi sottolineo come Elisa sta scrivendo in chat che automaticamente al termine del nostro webinar a ciascuno di voi a ciascuno che si è iscritto arriverà il link della registrazione integrale per cui state tranquilli se magari non avete seguito tutto perché c'era da mettere a letto il piccolo oppure la lavatrice da spegnere non c'è problema vi arriverà tutta la registrazione io ringrazio ancora tutti ringrazio davvero per la pazienza siete stati in tantissimi collegati con noi ringrazio gli amici che davvero in un quarto d'ora hanno aderito all'idea di organizzare questo webinar invio grazie fortissimo a padre Gael che in questi giorni è subissato di richieste ma con molta generosità le soddisfa con la sua competenza avete visto e con una grande passione e una grande competenza sono due elementi che spesso e volentieri non viaggiano insieme e in questa volta li abbiamo trovati uniti nella stessa persona ancora grazie a tutti voi buona giornata Gael Kennedy Stati Uniti e quindi a tutto il giorno davanti a ciascuno buona serata e arrivederci alla prossima grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti